Marco Baroni e il Pescara sono sempre più vicini. L'ex allenatore del Lanciano oggi è atteso nella città in riva l'Adriatico e potrebbe trovare l'accordo con la società Biancazzurra. Ma andiamo con ordine. Ieri mattina negli uffici del presidente Sebastiani è arrivato Beppi Pillon, già avvicinato dal tandem Pavone-Repetto qualche giorno fa. L'ex tecnico del Carpi ha tanta esperienza nella serie cadetta. 20 anni fa fece miracoli alla guida del Treviso portandolo dalla serie D alla B in tre stagioni. In seguito troppi alti e bassi, quattro promozioni, sette esoneri e lo storico settimo posto in Serie A con il Chievo nel 2005. Negli ultimi anni è stato spesso chiamato a risolvere in corsa situazioni delicate e la sua carriera non è mai decollata in modo definitivo. Pescara potrebbe essere la sua ultima chance per tornare ad alti livelli, ma la società non sembra così convinta a puntare su di lui. Subito dopo il vertice di ieri mattina, Pillon è stato a pranzo con Pavone e Repetto, mentre Sebastiani e Iannascoli sono rimasti in riunione per completare la documentazione necessaria all'iscrizione al campionato 2014-2015. Anche a Pillon è stato detto le faremo sapere, ma difficilmente ci sarà un nuovo incontro tra le parti. Il Pescara punta su altri profili e l'incontro di oggi con Baroni potrebbe portare alla fumata bianca. Lo stesso tecnico fiorentino qualche giorno fa ha dichiarato chiaramente che sarebbe onorato di sedersi sulla panchina bianca azzurra e la stessa società lo vede di buon occhio dopo la splendida stagione a Lanciano. Staremo a vedere come evolverà la situazione e se si arriverà ad un accordo.